Upas, anticipazioni puntate aprile, paura per Otello, l'uomo non risponde più al telefono. Nella puntata successiva di Un posto al sole, Silvia e Michele corrono da Indica, preoccupati che Otello non risponda più alle sue telefonate. Le anteprime per l'episodio di aprile di Un posto al sole mostrano che l'attenzione di Rossella si sposterà sui suoi cari, in particolare su Otello. Il ragazzo, infatti, non rivelerà più le notizie su di sé causate da Silvia e Michele. Sembra che i due si siano riavvicinati dopo questo. Seria preoccupazione. Intanto Viola apprende con disappunto che non potrà trascorrere il lunedì di Pasquetta con Damiano. Intanto Raffaele, Bianca e Jimmy preparano un crudele pesce d'aprile a Renato. Preoccupati per Otello in un episodio recente, Otello, Lucio Alloca, ha preso la decisione particolarmente deludente di tornare all'Indica. L'uomo ha espresso più volte che si sentiva vecchio e inutile e che la sua presenza avrebbe portato solo disagio. Considerato il suo stato psicologico, non c'è da meravigliarsi che Silvia, Luisa Amatucci, e Michele, Alberto Rossi, lo visitino a Indica per constatare di persona le sue condizioni. Si preoccupano soprattutto quando notano che Testa ha smesso di rispondere alle sue telefonate. Ma una volta lì, si troveranno di fronte a una scoperta del tutto inaspettata. Questo è tutto per gli spoiler di Otello. Date le circostanze, sembra improbabile che possa accadere qualcosa di tragico all'uomo, ma la possibilità non può essere del tutto esclusa. Dovresti però prestare attenzione alle importanti rivelazioni su Silvia e Michele. Sembra infatti che i due troveranno l'occasione per riavvicinarsi a Indica e riscoprire di provare ancora dei sentimenti l'uno per l'altra. Ipotesi sul futuro di Silvia e Michele durante il loro soggiorno a Indica, Silvia e Michele sono travolti dalla passione. Ma subito dopo, Sabbiani sembra riconsiderare il suo rapporto con l'ex moglie, mentre Giancarlo, Alessandro Todisco, è tormentato dal senso di colpa per il tradimento di Giancarlo, Alessandro Todisco. Non esiste una soluzione immediata a questa situazione. Inizialmente il banchiere è ignaro e i due protagonisti ripensano all'accaduto. Ma a quanto pare la verità verrà fuori dopo e Silvia dovrà scontrarsi con Giancarlo. Damiano trascorre il lunedì di Pasquetta con Rosa e Manuel e Damiano, Luigi Miele, si trasferisce nella casa di Rosa, Daniela Ioia, per proteggere la donna e il giovane Manuel, Manuel D'Angelo. Viola Ilenia Lazzarena, non ha altra scelta che accettare la sua nuova situazione. Tuttavia, questo cambiamento non sarà facile per lei. In particolare, la nuova trama fa capire che il giovane Bruni rimarrà molto deluso quando apprenderà che non potrà trascorrere nemmeno il lunedì di Pasquetta con Damiano. Quest'ultimo infatti ha intenzione di restare a casa con l'ex moglie e il figlio. Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Raffaele, Patrizio Rispo, organizza uno scherzo di pesce d'aprile a Renato, Marzio Onorato, con l'aiuto di Gimi, Gennaro De Simone, e Bianca, Sofia Piccirillo. Lo scherzo riesce, ma poi Giordano deve fare i conti con una piccola ritorsione da parte di Ornella, Marina Giulia Cavalli, e Viola, Ilenia Lazzarino. Grazie. Grazie.